Questo è un vero mercatino natalizio del Tirolo, abbiamo portato anche la baita del Tirolo, tutti i prodotti tipici nostri, siamo molto contenti di poter venire qua ad Arezzo che possiamo far vedere i nostri prodotti e presentare la nostra tradizione. Ad Arezzo fino al 26 dicembre è l'originale villaggio tirolese con 32 caratteristiche, casettine che rappresentano proprio il Tirolo, dunque Piazza Grande che sarà animata da questa splendida atmosfera per circa un mese. Quest'anno siamo partiti per tempo, i ragazzi in estate hanno cominciato a promuovere l'evento, siamo entrati in un circuito che è quello dei mercatini di Natale piuttosto importanti, abbiamo tante prenotazioni, addirittura dalla Sicilia, siamo diventati quindi una meta di mercatini natalizi anche con Tour Operator perché promuoviamo insieme al mercatino di Natale anche la nostra città, i nostri monumenti e quindi sempre con molta attenzione a promuovere la nostra straordinaria città. Credo gli abbiamo dato un buon assist come comune a tutte le manifestazioni della città di Natale perché abbiamo prolungato la mossa di Timer fino a dopo la Befana, è tra le dieci mostre più viste in Italia dell'ultimo anno, più di 80.000 visitatori, il periodo di Natale in realtà che comincia con il lungo ponte dell'8 di dicembre potrebbe essere un'occasione per portare tanti appassionati d'arte qui che troveranno magari senza saperlo anche tutto quello che è la città del Natale, quindi io credo che ci aspettiamo molto. Il fatto di avere un po' di Tirolo, 300-400 km a sud del Tirolo, è una grande opportunità, io ho amici che vengono dal sud, che mi hanno detto, abituati ad andare a visitare i mercatini del nord Italia, cioè quest'anno veniamo ad Arezzo perché il sapore ci hanno detto che è lo stesso, devo dire che in effetti è così. Musica Musica Musica